Ciao a tutti io sono Frico e bentornati sul mio canale per questo nuovo episodio su Yakuza 3 Allora nello scorso episodio ci siamo trovati con Rikia e adesso dovremo andare da Kanda alla stanza 403 al Red Brick Hotel Abbiamo un potenziamento che si può fare però sinceramente non mi interessa farlo io direi di aspettare e fare qualcosa di più Grow power ne è quickstepping decisamente possibile cioè piacevole boost speed of combo non sarebbe male E va bene comunque abbiamo ricevuto una mail che non abbiamo controllato Mac ok Kiryu Allora sto ancora tribolando col microfono quindi col microfono nuovo quindi sto provando diverse configurazioni per la voce Quindi questi episodi saranno di prova Spero di essere arrivato a un livello piacevole e comfort della mia voce Vedremo comunque al massimo lo modificerò nel prossimo Stavamo dicendo Si I don't know I want to go take a peek Kamurocho hotspot bowling alley Eeeh ok You might want to take a peek I've been learning a ton of Japanese from this DVD I picked in the other day Ok Quindi dobbiamo cercare bowling alley Mappa Lo facciamo subito così ce lo togliamo Bowling alley dovrebbe essere in amusement Teoricamente quindi scendiamo Bowling alley bowling alley match ball A match ball forse Eeeh 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 Il baseball Hanno il batting center Quindi bowling alley è quello Questo Questo edificio è grande Calmo Sto andando pianissimo Puoi raggiungermi Sto provando anche una nuova posizione del microfono Speriamo vada bene Allora Eeeh Posso entrare Grazie Da dove si entra? Oh ma mi lascia in pace Per favore Vorrei solamente capire da dove si entra Teoricamente da qua no? Buffalo wings No Forse da questo lato Ma mi sembra strano Eeeh Quindi cos'è successo? Ah Un altro Va bene Fammela pagare Cosa voglio dirti Conta che siamo in due adesso Eeeh Quindi Potremmo andarti ancora peggio del solito Ehi tu col taser Eeeh Lo sapevo Mi avrebbe colpito Scusa 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 No 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 Forse non hai capito Ok Devi andartene a cagare tu Ma me l'ha dato Ma che palle Io volevo Taser tutti Eeeh Basta Scusa Ah si è l'interra Eccolo la Ah Zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz E vabbè Ammazzato Sei contento? Shredded Toughness Z E il Toughness Z Eh lo togliamo Togliamo il Taurinar dai Potrei sapere come si entra Nel bowling Grazie Un screen Tickets Ah eccoci qua Bastava cercare la grande insegna E' pieno di Ah eccole qua Look Vediamo che succede Si facciamoli una foto Invadiamo la privacy della gente Addirittura Mi sembra un tantino eccessiva Questa Questa scena Ok Come come è possibile Non è possibile Non è possibile Mi rifiuto di crederci Allora Ne prenderesti Mite Povero Vinercia Mi sembra giusto Ah 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 No No Non è successo niente Ma Non è che ho sbagliato A scrivere Vabbè Ci siamo persi una Un qualcosa Sperando di poterlo recuperare Più avanti Forse doveva andare così Non è sempre Possibile Fare qualcosa Anche perché ha detto Così ho sentito Non era una cosa sicura Qua c'è una chiave Chiave numero 38 Ok Ora Stavamo dicendo Andiamo lì sopra Al debola posso scendere? No Non posso più scendere da nessuna parte Non ho limitato Minchia mi ha rotto i coglioni Cioè uno sta cercando Di essere Cordiale Gentile Con te Ma Minchia Si è un palo in culo Cioè cosa dovrei fare Camminare Piano 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 Togliamocelo Dalle balle Non aspetto Proprio nessuno Chiavi In questo punto Non ce ne sono Va bene Eccoci qua Arrivati all'hotel Stanza 403 Giusto? Che cosa fa? E vabbè Non sappiamo Se è stato lui In realtà Ah c'è un traditore Non è stato giocato Nevelo ce l'ha detto Magari no È solo apparenza Magari è Fedelissimo Cioè È stato Abbastanza stronzo Nei confronti di Kashiwagi Però magari Non è lui Sarebbe troppo palese Che succede? Che succede? Non dire così Non dire così Vabbè Facciamo finta Di sare una copia Non è molto contento Eh hai visto eh Mai giudicare Delle apparenze Grazie 401 Ah Siamo due stanze A fianco Cioè due stanze Di differenza Grazie Sì Già Siamo stati fortunati Che cazzate Eccoci qua Stanza 403 Eh sì Ciao Ci riconosce no? Ah non sa chi siamo Hai parlato tanto merda Di noi Adesso davanti a noi Non fai più la scema Eh È vero Ecco qua che scappa Ma non è vero Non vogliamo farti così Tanto male Ecco qua Guardi già il corpo Eh vabbè Cosa ti aspettavi Siamo pronti? È tempo di dargli una lezione Trova Kanda Quindi Più tempo ci mettiamo a trovarlo Più persone dovremo combattere Sicuramente Però Più esperienza no? Teoricamente No Uccida Questo lo potevo usare Per spruzzare Sapete Aveva una specie di gauche Allora Cominciamo a eliminare Quelli che hanno poca vita Sempre faccio una tensione Allora Ara tu sei Ancora full Ecco se no Mi piace Raccogliamolo Lo prendiamo Lo buttiamo a terra Le facciamo un casino Di danno No Scusami La smetti Oppure no Lasciate in pace Il mio amico Oh Interessante E basta Non fatelo mai più Va bene Ok Kanda in una stanza Con la luce Fuori Ok Dobbiamo aprire la porta Con X Potrebbe succedere Qualsiasi cosa Se apriamo la porta Sbagliata Quindi Io direi di curarci Non si sa mai Potrebbe succedere Qualsiasi cosa Intrigante Allora Con la luce fuori Quindi questa no Questa no Questa si E non sarà Di certo Quella giusta Oh oh Scusa Ho sbagliato Stanza 501 Oh Anche questa Non è Dove si va Di qua Ma non posso andare Di qui E non c'è Allora Ah devo salire Ancora di più Beh ovviamente Non sarebbe stato Al primo piano Vediamo al sesto Ci sono due stanze Apriamo le tutte A questo punto Eccolo qua Trovato È sceso Posso ad esempio Aprire questa porta Voleva portarmi dentro Ah l'ho shotto Però Esperienza Ma a me cosa me ne frega Ho fatto bene Ma non c'è niente Ok sono tutte Attenzione Che paura No Quelli con la poltrona No Che palle No Molla quella spada Imediato Oh Molla quella spada Bet Ah tu sei quello forte Diciamo Allora Ce la prendiamo con te Uno Siamo a 30 Ho detto Ricamante potrei decidere Cosa No 35 era Mi ricordavo male io Che rotula di palle Vediamo come funziona L'estintore Non mi sembra Che lì ne sia fregato Molto Molto Eh purtroppo Dobbiamo fare così e basta Non c'è altro modo Potrebbe essersi Nascosto di nuovo In questo piano Ok quindi qua non c'è Adesso ci agrediscono Oh Attenzione Mollami Grazie Non posso entrare 31 Ciao Non è successo niente Questa l'abbiamo già aperta Questa l'abbiamo già aperta Quindi è sceso ancora Che si è ritornato Alla sua stanza 400 Sarebbe una cosa smart Da fare 400 5 No Stiamo rompendo tutto Non saremo più Eccolo qua Non saremo più benvenuti In questo Di nuovo è salito Sì ma mi sono rotto un po' Ah ecco Facciamo che è un endurance Che no farò lo spiritoso Perché adesso ti pungo Guarda Noo Sei contento? Ti fa vedere qua la spada No Eliminiamo Yasui E mi ha tolto Un casino di hit Per andare a quel colpo È stata La fine No E a questo punto Ti elimino così E il tuo amico Con la spada Lo tagliamo L'ultimo samurai Muori 32 Eh ma qua Non è andato Perché l'abbiamo visto Scendere Inutile fare queste cose Allora X Volevi portarmi dentro Volevi violentarmi Vero Di la verità Teoricamente ci serve La spada È risalito su Eh E cosa facciamo? Cosa possiamo fare? Andiamo di affondi È l'unico Allora oggetti Ci prendiamo Uno staminian Che ci dà anche vita Se non sbaglio Sì Se possiamo fare Anche una mossa È risalito Questa l'abbiamo Già aperta Dobbiamo aprire Tutte le stanze Aperta 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 Quindi qua Non può essere Andato A questo punto Saliamo ancora Da giocare Nascondino Kanda Ok questa Non l'abbiamo ancora Aperta Niente 606 Niente Adesso c'è che Addiscono Quindi facciamo Attenzione Oh la mica Mi sono appena curato Ok vediamo Mi sa che si sono Richiuse Guarda Non voglio Neanche sapere Ok È salito Nell'altro piano Allora Eh lit Che avevamo Se è andato Purtroppo Ok 705 Di nuovo Un'altra aggressione Lasciami Vabbè In realtà Sono punti esperienza Quindi E non pochi Ce ne danno Un bel po' Eh Sì Quindi conviene Aprire tutte le porte 706 Io mi sarei spaventato Moltissimo Comunque Aver visto Uno Ecco qua Basta Dai Finalmente È andato Nella suite Reale Da qua Non può scappare Però Sarà una boss fight Sicuramente Stai allerta Kiryu Come Come L'ipopotami Attento Parapara Parapara Non te l'aspettavi Questa eh Vabbè Dovremmo parlare Dopo averlo picchiato No Come sempre Vediamo Non sono sicuro Forse ti pentirei tu Sarà difficile Sfogare il suo odio Patriarca Dalla famiglia Nikishiyama Ok Sembra che noi Non possiamo Grabbarlo Vabbè Faremo a me Dove stia andando E' da bravo Sì Oh Giarlo Grazie E vabbè Cosa fa Mi Mi stunna Per sempre Scusami Che fastidioso Devo riuscire a Caricare un hit mod Assolutamente Mi sa che uso uno stun minion Se ne ho ovviamente Stam minion royale E' l'unico Per togliere vita Che non gli ho tolto Assolutamente niente Quindi Sakura Storm In un certo punto Quick time event Eh cosa glielo fai fare Forse doversi fermarlo Prima che prenda questa roba Cosa ne dici Vabbè Ho il mattone Ci picchia Ok Non male Stanco No Anasse Anasse Ah Mo' incominciamo a fare le prese Ok Ne prendo un altro Vabbè Noi lo lasciamo fare A quanto pare Ah Ha fatto più in fretta Fermo Vediamo questo tavolino Opla Ma l'ha funzionato Stavolta Chiacca è male Ok Hai finito Kill the hit Non c'è C'è poco da sentire Head press Non gli faremo niente Li togliamo tutto il giallo E basta Secondo me E infatti Neanche Cosa stai prendendo il divano Facciamo divano contro il divano Eh facciamo divano contro il divano No Ho preso il vaso Niente ne vuole farlo Divano contro il divano Si facciamo malissimo Oh basta Con questi oggetti Ma cosa sei Toughness easy Ci curiamo Possiamo fare ben poco Possiamo solamente parare E minimizzare i danni Attenzione E basta Non ti stanchi? Allora Quella mossa che abbiamo preso Che possiamo pararci Dopo essere stati colpiti Ci sta aiutando parecchio Cioè potessi ovviamente Colpire anch'io Suplex Ok Boom Vale Cosa state facendo? Aia che dolore Non dove essere Bello per la schiena Vabbè stai facendo un po' di yoga Ok Ok l'abbiamo uccisa 64 King of pleasure Ah è lui il re del piacere Ok Pensavo stesse dicendo a me Perché le ho fatto un massaggio Eh non sembra T'avevo detto Sarebbe stato troppo facile E' quello ricco? Oh oh Attenzione Ah Eh mi sa che è morto O l'ha messo K.O Eh sì Abbiamo già fatto E' un po' stupido Sì Ve l'ho detto Secondo me Ehm C'è qualcosa Per Per gli accordi E' stato sparato Perché volevo Fermare gli accordi Il resort O per la base Non sappiamo ancora Cosa vogliono fare Cosa vuole fare il cattivo Va bene Vabbè non è una mia scelta Speak Eh beh Vogliamo capire Chi sia Se è davvero Kazama Pure no Anzi Kazuma Finito il capitolo No Ok Tutto a posto Ah dove andiamo Ah va bene Sì sì Possiamo andare a mangiare Yakiniku Non so cosa siano Ma ok Va bene Proviamo a vedere Se sai quello Abbiamo ricevuto Una mail Sì lo so Che possiamo fare Delle upgrade Un altro shot Soba joint In the southern part Of Kamuro Cho Ok Ok vabbè Facciamo degli upgrade Che ne possiamo fare In realtà uno Mi servono essenze Mi servono finisher 50 50 Allora questo lo dovrò fare Prima o poi Facciamo questo Eh va bene Ora Southern Ramen Southern ce n'è solo uno Di posto Dove fanno Roba da mangiare Proviamo a vedere Non possiamo fare Delle missioni secondarie Però Allora non so se Siamo stati fortunati Con i primi due E il terzo L'abbiamo sbagliato Dei potenziamenti Oppure Se ci ha fatto capire Praticamente Che non Tutte le cose Che ci danno Ci danno potenziamento Comunque Più mosse abbiamo Meglio è Quindi Vediamo un pochino La parte più a sud È questa E quindi Non mi dà neanche L'opportunità di pagarlo Proprio Stai zitto Ok Ok Siete contenti? Perché no? Doppia finisher Per assicurarci Che sia Morto Ok 5.000 Stavamo dicendo Stavamo dicendo No? Più a sud Proviamo a vedere Se è questo Questo mi sa che fa sushi No lo so Vediamo Infatti non Non possiamo fare niente qua Mangiamo Non è questo Allora Ok ci hanno bogato Ci hanno fatto andare via Rileggiamo la mail Soba Soba Caffè South Southwest Quindi Sarà fuori Forse Proviamo a fare un giro Qua Per vedere Se vediamo qualcosa Basta Basta Dobbiamo sbarazzarci nel prima possibile No Qua La fine Ma Sia questo No Ma cosa Non Che hai fatto Non ti hai fatto niente Ma Roba Roba Dammati Ok Sii contento? Old magazine Non so cosa me ne faccia io Però ok Cosa a voi Ma mi lasciate in pace? Che è morto Vabbè Vieni Basta Dai è morto Non mi sembra il caso Di infierire Ok 3000 Non capisco Questa mail Vabbè Andiamo fra la principale Se no perdiamo troppo tempo Ci capiterà di beccarlo Prima o poi Sì 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 Adesso mi sto per sbarazzare di te Perché Tutto il gioco così Spero che non sia Spero che non sia tutto il gioco così Perché se no è un pazzisco Spero che non sia tutto il gioco Sì Sei contento? Eh sì C'è un po' di tutto Ah è vero Che doveva finire il tatuaggio Che deve mettere due occhi poi Sì Sì Andiamo a controllare Ma lo porta dal nostro tatuatore? Ok Ci sta Ce l'hanno pagato Ce l'ha pagato L'ingaggio dato Ora dai Mettiamola in questo In questo modo Così ci pesa di meno Eeeh Vabbè Andiamo dai Ma non posso fare niente Ah sì Posso fare qualcosa Andiamo a fare la secondaria Tanto ormai Non riusciamo a fare più niente Di succoso Dico Cosa stanno facendo questi due? Ok Ci da consigli Sui posti diciamo Credo almeno E un pochino Mi piacerebbe che me li indicasse In realtà I punti di me Che però non sarebbe più Una cosa puzzle Comunque Stai facendo Assolutamente niente Qua? Cosa succede? Ah lo stiamo portando Al Dal tatuatore Ok Otabori Ah Vediamo cosa dice Otabori Magari si rifiuta Ovviamente Ah Ah Sì! Glielo mostro e basta! Magari si emoziona e fa... Ti piace? Addirittura... Lo aiuta quindi? Ah, quindi vuole sapere un po' più di te? ... Andiamo dai! Sono d'accordo! In effetti... Essendo un po' troppo... ...fastidioso mettiamolo in questo modo... Allora lo partiamo da un key shot e basta! Addirittura... ... E' un paladino della giustizia! Una guerriera che si veste alla marinara! Dai! Battiamo questi qua in fretta! Così ti porto la donkey shot e poi mi sbarazzo di te! Boom! Aia! Ma mi scusi! Non si fa così eh! Non è che... ...dove picchiare tutti quelli che vede... ...all'inizio! Oh! Pronto? Bello! Ah c'è un altro! Ok! Non ti avevo neanche visto! Le abbiamo eliminate abbastanza in fretta! ... Addirittura! Chi sei? Muroto! Oh ehi Muroto! Non so chi tu sia però va bene! Lava? ... ... ... ... ... ... ... ... ... ma chi dà addirittura in effetti dimostra la vipera ah no è bastato uno sguardo eh la giacca non te la riprendi scusami eh eh ti stai interessando eh ma se ci fossimo separati questa roba non sarebbe mai successa fammi capire sembra una roba abbastanza principale addirittura con tanto Doveva fare ben poco in realtà Eccolo qua, finito E' abbastanza figo dai Ha fatto un occhio però, ok Adesso non esagerare Addirittura Ok 10.000 punti esperienza Per un opzionale, non male Ok Direi di andare al punto di salvataggio Va bene ragazzi, io direi di chiudere qua questo episodio Noi ci vediamo al prossimo, sempre qua Sul mio canale, ciao a tutti Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi E lasciate un mi piace Noi ci vediamo sempre qui, sul mio canale, con il prossimo video Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti